ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo di nuovo qua con le berce siamo saliti con le motoslitte lì c'è un mare di nuvole fighissimo salendo c'era un po di nebbina poi qua tutto limpido la nebbia rimasta sotto come si vede la speriamo di fare un riding come si deve scusate se vi muovete ma c'è cric ogni tanto muove la testa quella foto raga stiamo salendo ancora un pezzo questa cresta fighissimo c'è la nebbia che si sta alzando adesso scegliendo la line poi andiamo giù di là e poi facciamo quello che abbiamo fatto la prima volta nel bosco sagnalonga poi saliamo raga che figo 3 2 3 2 1 drop in 2 1 1 oh uhuh uhuh questo è un cliff drop in Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sfira gates... no vabbè ma non ci credo io non ci credo io non ci voglio credere cos'è oggi cos'è finalmente giornata di fresca top grandi ragazzi che figata di giornata